hai sopra di te delle persone, i famosi supervisor che ti danno delle scadenze e quando questa cosa diventa recursiva, cioè diventa impegnativa passiamo dal divertimento alla passione al lavoro e quando il lavoro è un lavoro come tutti gli altri non è un passatempo, un divertimento, a volte è molto stressante ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Indivia siamo sempre qui dalla nostra casa che è il Santo Graal e questa volta, questa puntata è specifica per chi guarda i titoli di coda sono sicuro che non molti di voi quando vanno al cinema ma anche quando guardano un film in tv guardano i titoli di coda in questo caso però arrivate fino alla fine perché sarà una gran bella puntata come al solito salutiamo e ringraziamo il maestro Bini per la sigla che ci fornisce ogni puntata e come ogni volta lanciamo la sigla Indivia! 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 Diamo il benvenuto ad Anna Tronci Salve a tutti Ciao Anna, ben trovata Grazie Allora, io quando ho scoperto che cosa faccio io ti ricordavo eoni fa come chitarrista in un gruppo country esattamente era veramente tantissimo tempo fa e poi ci siamo rivisti successivamente per una cosa che non è andata più in porto sfortunatamente però poi sì, mi voleva valere delle tue competenze informatiche attenzione dal valervi delle mie competenze e poi è bravo, è bravo e poi in realtà anche tu sei diventata molto brava tanto è vero che ho scoperto che cosa fai adesso sì, poi la cosa la cosa strana è che è molto vicino al tuo lavoro cioè è a metà strada tra l'arte e l'informatica esatto, però aspetta fammi fare un'introduzione ti racconto un po' cos'è Indivia Indivia è un podcast fatto a sud se hai già visto qualche puntata l'avrai sentito proprio perché è fatto a sud le persone quando vengono da noi hanno principalmente in mente tre cose che sono il mare l'accoglienza ed il cibo e quindi nasce più che naturale la prima domanda del podcast che ti mangi oggi? domanda difficile devo chiedere alla cuoca che è mia madre perché io diciamo ho il mio studio ho la mia vita eccetera eccetera però pranzo e cena approfitto gentilmente dell'accoglienza che mi accoglie ormai è una vita quando non vado dici come non vieni a mangiare no ma c'ho da fare e poi ti lascio qualcosa no ti mando tuo padre così ti porta qualcosa da mangiare non voglio mangiare insomma ci sono queste cose che belle bellissime poi vabbè ci sono altre problematiche insomma credo forse oggi mangerò carne che diciamo a Trani insomma Trani città sul mare il pesce e quant'altro che noi mangiamo spesso e volentieri però oggi mi sa che mangiamo carne va bene ok qualunque carnessa sia anche se salsicce di cavallo probabilmente sarebbe molto tranese sarebbe molto tranese e noi da non tranesi perché io è vero io sono nato a Trani questo è un piccolo aneddoto su di me perché io non sono nato a Trani però i miei sono sempre stati come dire un pesce fuor d'acqua perché mio padre è leccese che mia madre è di potenza e quindi durante l'infanzia l'adolescenza la gente ti fermava vedeva il cognome ma tu non sei di Trani seconda domanda ma tu a chi appartiene a chi appartiene allora poi tu dici scusa ma questo mi fa morire davvero io penso e io poi dovevo spiegare a chi sei figlio ma guarda che è così quindi sicuramente o tuo padre o tua madre anzi tuo padre perché una donna che lavora mia madre ha insegnato quindi le mamme non devono lavorare vecchio parliamo ovviamente di tanti anni fa certo dici tuo padre sicuramente ha un impiego pubblico esatto mio padre ha le poste ah ok va bene va bene no ma anche mia madre lavora ah tua madre lavora mia madre lavora insegna ah bene bene cioè tutte queste cose insomma ci siamo sono rimaste un po' come retaggio certo adesso sono cambiati i tempi quindi io nasco a Trani ma non sono non perché mi piace dire non sono tranese perché a Trani conosco gente fantastica conosco gente che è come dappertutto come dappertutto tutto il mondo è paese esatto nulla di negativo senti allora Indivia è un podcast che si occupa principalmente di indagare le professioni che hanno le persone che hanno di indagare di scoprire le persone che hanno avuto un ruolo o che hanno ancora un ruolo all'interno dell'arte e dello spettacolo sia le persone che sono sul fronte del palco sia le persone che sono sul palco sia le persone che sono dietro le quinte e che lavorano per far sì che gli spettacoli funzionino e nel tuo caso parliamo proprio di chi lavora dietro le quinte già nell'introduzione come hai potuto sentire parlavo proprio dei titoli di coda e questa cosa qui ti giuro quando l'ho scoperta perché l'ho scoperta recentemente è stata una una inaspettata e gradevolissima sorpresa grazie perché il tuo lavoro è a livelli decisamente elevati e e comunque porta un certo lustro anche anche a noi che siamo di questa città che viviamo qui oppure oppure no e raccontiamo che cosa sei sei una visual effect artist esatto e se lo vogliamo italianizzare un lavorista di effetti visuali esatto che si differisce un po' dal che no si differisce molto da chi fa gli effetti speciali perché quelli di solito si fanno sul si fanno on stage quindi durante le riprese c'è da fare che ne so una esplosione più realistica anche se quelle comunque fatte in computer grafica adesso sono abbastanza realistiche si fa diciamo dal vivo però questa consuetudine incomincia a come dire a diminuire perché comunque ha dei costi cioè la questione qual è che realizzare un film una produzione dove come dire 70-80% delle cose vengono realizzate on stage a dei costi oggi la tendenza e poi parleremo anche dell'ultima tendenza che è invece quello di nascondere che ci sono gli effetti visivi tipo film i registi di film come Openheimer o Napoleon ma ma in generale la tendenza ultima dei grandi registi è quella di dire noi non abbiamo usato effetti visivi poi voglio dire chissà lo capisce subito che ci sono chi va al cinema poi si vede alla fine dei titoli di coda quindi quando ormai non c'è nessuno perché i titoli di coda non si rivede nessuno e comincia a vedere una sfizza di nomi di gente che ha fatto delle cose e dice ma che cos'è sta cosa perché poi diciamo la filiera che costituisce che sottende diciamo al lavoro degli effetti visivi è una platea molto vasta si va dalla realizzazione di ambientazioni ovviamente noi parliamo di di un contesto realizzato in computer grafica quindi parliamo di poligoni di di software di vettori di cose che comunque poi vengono renderizzati quindi resi realistici ma dietro hanno come dire tanta tecnologia e c'è una filiera immensa quindi chi fa l'environment quindi l'ambientazione chi realizza addirittura i personaggi io ho visto il film Napoleon e c'è una scena per esempio quando l'esercito austriaco avanza sul su un lago ghiacciato e i francesi incominciano a bombardare il lago cosa succede che il lago si spacca e cominciano ad andare giù nell'acqua cavalli armi soldati ma secondo voi perché poi ci sono i close up su questi soldati questi cavalli che vanno in acqua i primi piani sarebbero i close up i close up sono i primi piani ma secondo voi questa roba la fanno realmente no quelli sono modelli in 3D cioè quelli sono tecnicamente noi li chiamiamo puppet cioè dei pupazzi ma sono realistici perché poi con le nuove tecnologie soprattutto adesso si fa proprio le scansioni cioè si hanno dei modelli praticamente iper realistici ma anche questo nel discorso dei videogiochi quello è un altro settore però diciamo uno nel videogioco già è più orientato a capire che quello è comunque realizzato in computer grafica e come dire la vicinanza tra il mondo dei videogiochi e il mondo diciamo degli effetti visivi nei film detti action movies perché praticamente sono realizzati dal vivo certo non è molto difficile ci sono delle differenze tecniche perché ovviamente poi tu devi realizzare una cosa che deve nel nostro gergo si tende a fondere parole in italiano a matchare le immagini diciamo riprese dal vivo cioè si fa per esempio la ripresa di questo ambiente poi si mettono che ne so degli alieni o degli effetti e poi lì la bravura la magia è nel compositare tutte queste cose ho detto in due parole un lavoro molto complesso che dura mesi e dove ci sono decine o centinaia di persone poi dipende dalla produzione quindi facciamo un altro esempio il pianeta delle scimmie adesso uscirà la nuova firma uno dice vabbè ma come hanno fatto là ci sono attori veri e propri che vengono come dire tracciati con delle delle telecamere mini telecamere eccetera eccetera e su di loro vengono come dire impiantati applicati dei modelli di scimpanzee o gorilla o quello che sia e sono spaventosamente realistici spaventosamente realistici no invece io mentre tu parlavi io pensavo agli action movie appunto tipo quelli della Marvel che vengono girati sostanzialmente con uno sfondo verde dappertutto e soltanto il green screen e soltanto uno o due attori che che fanno questa cosa qui dopodichè tutto il mondo intorno gli viene costruito attorno noi adesso senza tranne dettagli perché noi comunque filmiamo dei documenti in cui non possiamo fare divulgazione però abbiamo lavorato sei mesi da remoto poi parleremo anche di questa cosa i famigerati non disclosure agreements ovvero gli accordi di non diffusione delle informazioni esatto abbiamo lavorato per una serie che dovrebbe andare in onda prima sul Disney Plus poi Disney Plus si è tirato indietro forse andrà sulla BBC e riguarda Oceani un sommergibile che va sott'acqua e tutta una storia tratta da un famoso libro insomma di uno scrittore francese e noi avevamo queste scene dove sostanzialmente avevamo queste ambientazioni completamente in 3D sott'acqua e di realistico c'erano solo gli attori che spesso venivano anche implementati quando c'erano magari c'erano degli scontri con delle creature fantastiche polpi giganti balene e quant'altro che ovviamente avevano come dire un'interazione che non poteva essere realizzata con attori veri sì ci sono anche gli attori veri che poi magari quando noi li vediamo volare lì ci sono delle funi che li tirano e e quindi ovviamente ci sono come dire degli artifici che vengono mascherati poi mascherati vengono cancellati c'è lo mino noi diciamo mino ma spesso sono anche ci sono molte ragazze nel settore nel reparto di compositing che proprio cancellano queste funi frame per frame cioè nel senso immagine per immagine sì diciamo ci sono dei sistemi che come dire automatizzano ma in realtà fino a un certo punto quindi c'è sempre la mano la manina che interviene serve fare la finitura cioè magari viene fatto il grosso in automatismo e poi a un controllo visivo si va però spesso e volentieri ci sono dei frame un po' critici dove questa fune ti passa davanti e là non c'è algoritmo che tenga o intelligenza artificiale che tenga deve intervenire tu con la tua manina e sono lavori perché poi noi quando vediamo anche un secondo di una di un'immagine di una sequenza in un film quelli sono 24 frame quindi sono 24 foto 24 immagini per ogni secondo se la cosa dura un minuto sono 24 per 60 sono tantissime tanta roba diciamo quindi ovviamente l'immagine che si ha di questo lavoro quando si capisce che esiste questo lavoro dice ah che bello il tuo lavoro chi diverti non è esattamente così perché poi dietro queste produzioni ci sono degli interessi c'è comunque c'è un mercato certo hai sopra di te delle persone i famosi supervisor che ti danno delle scadenze certo e quando questa cosa diventa recursiva cioè diventa impegnativa passiamo dal divertimento alla passione al lavoro certo quando il lavoro è un lavoro come tutti gli altri non è un passatempo un divertimento a volte è molto stressante e poi hai delle consegne dei tempi stringenti è complesso e quindi a volte si riesce a volte le consegne vengono un attimino ritardate perché la produzione non riesce perché poi non dipende tutto da te ma tu sei un pezzo di un ingranaggio di un ingranaggio molto grande dove ognuno ha un suo compito e se in quel punto si ferma il meccanismo si ferma anche tutto il resto quindi poi è complicato da spiegare ma alla fine è come tutti i lavori che noi voglio dire consideriamo ripetitivi noiosi ma alla fine è la stessa cosa ok torniamo un attimo alla magia perché poi è vero che sì però poi il risultato è quello che sono le luci nel momento della proiezione alla fine quando nel momento in cui avete realizzato il vostro prodotto siete contenti convinti di quello che avete fatto poi lo scoprite anche sul sul viso degli spettatori se avete fatto un buon lavoro io però avevo una domanda sul sul sumergibile non voglio non voglio parlare di 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 che cosa avete realizzato in quel caso specifico avete fatto gli ambientazioni avete animato i mostri avete allora in realtà abbiamo fatto tutto ah ok però ognuno ogni reparto ogni reparto vuol dire che c'erano dieci quindici venti persone lavoravano su una specifica task quindi hanno un compito preciso in base anche alle loro competenze le famose skill no allora c'è l'animatore quello che anima c'è il modellatore quello che realizza il modello parlo al singolare ma in realtà per ognuna di queste competenze ci sono più persone ah ah poi c'è quello che mette noi le chiamiamo ossa che permettono poi al modello di muoversi il rigger poi c'è l'animatore poi arriviamo a quelli che fanno le simulazioni che è il mio reparto ok quindi noi tu immagina l'ambientazione marina ah ah sott'acqua ok poi parliamo della parte superficiale quindi tu devi realizzare il mare le onde la schiuma l'interazione con i veicoli quindi non so un battello il sommergibile eccetera eccetera e c'è tutta una grammatica da seguire perché a parte il realismo da realizzare la cosa complicata che una sequenza un'intera sequenza non la fai tu ma un pezzo la fa uno un pezzo la fa un altro un pezzo la fa un altro quindi qual è il problema che poi questa roba viene messa insieme e la tua simulazione deve essere uguale a quella precedente e la successiva deve essere uguale alla tua quindi cosa deve essere una coerenza sì deve essere una coerenza ma tu hai comunque a disposizione il materiale di prima o di dopo per capirlo allora come funziona di solito c'è un un lead c'è una una persona che è sopra di te che tecnicamente è più bravo quello che praticamente imposta il setup ok questa cosa si fa così quindi tu in realtà non ti puoi muovere da quel setup però il setup una volta che tu ce l'hai in mano ha mille come dire setting quindi puoi andarla a modificare in mille modi quindi a volte cosa succede è un po' il mistero di pulcinella perché poi ti devi guardare perché poi ci sono le review ogni giorno si vede il lavoro fatto dagli altri e tu devi andare anche se tu non hai fatto niente o magari per quel giorno non sei pronto devi guardare quello che ha fatto quello che viene prima di te ah dice ok lui l'ha fatta così quest'onda quindi io la devo fare in questa altra maniera sott'acqua è ancora più complesso perché noi quando vediamo le immagini sott'acqua vediamo tante cose vediamo una specie di pulviscolo poi vediamo le alghe e poi vediamo i riflessi dell'acqua poi ovviamente le azioni sott'acqua sono rallentate quindi c'è una complessità tale per realizzare un ambiente sottomarino che non c'è certo che poi è il frutto di lavoro di tanti 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 elementi che vengono poi inseriti e poi ti arriva il supervisor no ma questa cosa la dobbiamo fare così no ma questa cosa la dobbiamo fare così chiaramente quella produzione era una produzione immensa fatta da più studi c'era lo studio a Londra c'era lo studio in Australia c'era lo studio in America il tuo studio dove? il mio personale certo a Trani c'è lo studio a Trani io posso dire che poi in realtà mi piace dirlo perché io diciamo amo molto il lavoro in team ormai si lavora diciamo remotando un attimino tutte le cose quindi spesso e volentieri la struttura è in un posto però gli altri colleghi lavorano da remoto o sulle proprie macchine o addirittura tramite le famose VPN che poi ci spiegherai tu che sei maestro in queste cose solo quando riceverò la sponsorizzazione la VPN sul tuo diciamo sulla tua rete possono lavorare sulla tua macchina e quindi come dire importare tutto perché tutto poi deve andare in un unico canale no? quello che noi chiamiamo in gergo tecnico pipeline ok flusso di lavoro e io a Trani ho avuto questa follia di dire vabbè tanto voglio dire ho visto studi nei posti più assurdi Romania che poi allora sfatiamo un mito noi pensiamo di vivere in Europa e che fuori dall'Europa o fuori dagli Stati Uniti quindi nei paesi anglosassoni ci sia il terzo mondo ok no no non è così quindi abbiamo un'idea un po' un po' sbagliata un po' come dire voglio ritirare il termine giusto un po' di superiorità quella superiorità che ha benevolenza diciamo ah poverini no loro hanno le loro cose hanno comunque noi ci immaginiamo che magari in India perché poi arriviamo anche al discorso dell'outsourcing certo e gli aspetti negativi dell'outsourcing nei paesi cosiddetti del terzo mondo o quarto mondo quello che quello che sia dove non esiste niente in realtà non è così magari loro hanno delle infrastrutture di rete con problematiche maggiori certo però noi però magari hanno computer hanno render farm hanno la capacità poi delle società e addirittura ci sono delle società in India che oggi sono diventate così grosse che a loro volta hanno come dire creato una sede in Canada quindi poi parleremo di tax credit che è quella cosa che permette di realizzare sostanzialmente i film i paesi i posti dove c'è più tax credit quelli riescono a realizzare il maggior numero di film c'è un problemino adesso in Italia sul tax credit poi magari ne parliamo ma quello spieghiamo anche bene quello spieghiamo bene diciamo che il Canada per esempio investe molto ultimamente hanno investito molto anche Spagna poi Germania Francia sono sempre stati un po' avanti però diciamo in Europa considerando l'Europa dal punto di vista geografico non dal punto di vista politico l'Inghilterra è quella che comunque ha sempre investito di più quindi sostanzialmente io ho deciso ho detto questa cosa la facciamo a Trani poi in realtà ho anche dei colleghi su Bari che hanno un altro studio cioè stiamo cercando di creare di fare un attimino di rete e ho detto la prima cosa sicuramente ho bisogno di una linea internet forte e hai preso la fibra ecco vado giù nel mio scantinato dove dovevo trovare la famosa scatola di ripartizione non so come si chiama il ROE e vedo che non c'è ah ah ho detto vabbè chiamiamo i vari operatori ma non facciamo nomi no ma lei non la può avere la fibra lì no perché insomma praticamente per un anno io mi sono dovuto a documentare ho chiamato i vari operatori eccetera eccetera insomma riesco ad avere sta fibra per un miracolo perché la scatola stava il mio palazzo è fatto un po' in maniera particolare a un ingresso interno e un ingresso esterno dall'ingresso esterno farmi arrivare il filo poi un bel giorno ma hai avuto la fibra in rame ovvero la fibra la fibra ottica la fibra ottica quella da un gigabit ma io siccome non mi accontentavo ho detto no io voglio qualcosa in più un bel giorno con il famoso piano PNRR stanno facendo adesso hanno finito gli scavi insomma un bel po' di tempo fanno gli scavi un altro famoso operatore che è quello poi che ha finanziamento pubblico non voglio fare i nomi perché insomma guardi faccio io tanto sono OpenFiber e FiberCop OpenFiber OpenFiber Ok FiberCop si è completamente dimenticato del mio indirizzo OpenFiber FiberCop non credo anche che stia funzionando a tre anni OpenFiber di solito quanto ho capito si suddividono i comuni o le zone e quindi a Corato puoi trovare OpenFiber ad Andrea trovi FiberCop FiberCop infatti quando sono venuti poi ho trovato un operatore che dava la 10 gigabit Oh yeah che è un operatore tra l'altro meridionale del Molise quindi vabbè avete capito tutti di che sto parlando No io no però vabbè puoi fare tranquillamente Sto parlando di dimensione Ok che sono che è un operatore veramente intanto diciamo con un servizio più enterprise che poi il problema qual è tu fai un contratto con un operatore diciamo consumer sì ma io vi faccio anche il contratto a partita IVA è uguale il servizio è lo stesso hai la possibilità con questo operatore di fare un contratto sia diciamo enterprise che comunque consumer ma il servizio comunque è molto utile ha detto vabbè io voglio la 10 gigabit perché poi abbiamo fatto il controllo il check sul mio indirizzo si poteva avere a Trani io la 10 gigabit allora raccontiamo un po' di aneddoti quando poi abbiamo fatto questo passaggio parlo al plurale anche se fisicamente nello studio mio a Trani ci sono solo io però si connette altre due o tre persone ok allora siccome grosso modo per quanto riguarda il lavoro in Italia le produzioni sono su Roma molti studi ho scoperto che non hanno manco la fibra ah sì anche a Roma perché a Roma attenzione dipende dove sei posizionato ci sono delle zone dove sei servito benissimo e ci sono delle zone dove c'è ancora la 7 mega e infatti noi poi utilizzavamo anche dei protocolli FTP insomma per mandare roba un po' più pesante certo mi ha detto e dice io stanotte comincio a scaricare come stanotte comincio a scaricare quello cioè dovrebbe essere in tempo reale perché i colleghi che lavorano con me il mio collega Matteo che sta a Firenze io ho già la fibra i miei colleghi a Bari hanno la fibra quindi bene o male è quasi in tempo reale è come se fossimo tutti in uno studio e lui dice no devo partire stasera oppure poi lo vado a scaricare dall'altra parte e io scioccato perché poi noi qual è il problema quello che diventa il famoso collo di bottiglia che se tu devi mandare delle cose su cui lavori un tot di ore per cui magari hai bisogno di un feedback veloce hai bisogno di un feedback veloce perché se non va quella devi rifare e quella cosa poi ha dei tempi tecnici e poi il collo di bottiglia e internet è un problema certo abbiamo scoperto che Golia non è Golia ma a volte è qualcosa di più piccolo e che è più piccolo a volte è Golia quindi sto fatto che vado a Trani come fai a Trani una volta parlavamo con un collega tedesco che vive in Italia dice facciamo una call perché dovevamo organizzare un lavoro ma come facciamo con internet ma voi avete internet e io senti modestamente abbiamo anche la fibra la perché lui parlava in inglese abbiamo la più fiber la fibra pura e io ho avuto la fortuna fortuna tra virgolette perché in realtà non è fortuna cioè ho la 10 gigabit basta pagare e parliamo di linea condivisa non linea dedicata perché volendo poi c'è la linea dedicata è libero i costi sono vabbè apri di cielo ah no dice perché io dove sto lui stava questo collega stava in Toscana però stava in un posto un po' defilato non stava in centro a Firenze o in una grande città una grande città un'altra provincia dice no perché io qui ho la 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 l'amistorame e se no arrivo a 40 qui abbiamo la fibra di 5 gigabit ah no no ma io mi trasferisco da voi però mi trasferisco da voi cioè vabbè poi c'è l'idea del mezzogiorno come in realtà io vedi su questa cosa spingo molto perché in molti pensano che nel sud Italia ma noi in Puglia siamo già un'isola felice perché abbiamo avuto la la fortuna di avere per primi le infrastrutture di rete anche a livello geografico siamo anche più fortunati ma anche in Calabria o addirittura in Sicilia le infrastrutture le infrastrutture per avere la rete veloce ci sono bisogna soltanto adesso la questione politica tra virgolette politica nel senso basta la spinta ovvero la richiesta del mercato per ottenere poi quello che si vuole poi tra l'altro il progetto quello dei vari governi non dell'ultimo dei vari governi sul PNRR in una delle parti fondamentali c'è proprio il discorso della digitalizzazione quindi sostanzialmente ogni condominio dovrebbe avere la fibra anche perché molta gente non sa una cosa e questo me l'ha spiegato un mio amico tecnico mi ha detto guarda che la linea in rame costa poi bisogna alimentarla la fibra ha anche un vantaggio a livello economico perché là è la luce che si muove poi è chiaro che bisogna fare l'infrastruttura però tecnicamente diciamo a livello di gestione poi ci sono anche altre problematiche va bene però costa meno della linea tradizionale che non è performante per l'altro quindi vabbè diciamo c'è questa cosa del sud è anche vera un'altra cosa cioè il sud vabbè poi in realtà ci sarebbe anche da fare il discorso che per esempio in Puglia c'è la Puglia Film Commission che finanzia molti progetti certo cioè io mi sono ritrovata a degli incontri dove c'erano vari attori attori non gli attori ma varie aziende che venivano lì a parlare dei loro progetti venivano da Roma da Milano e la cosa mi ha abbastanza incuriosito quindi vuol dire che questa cosa sta funzionando sta funzionando poi vabbè magari finanziano alcune cose discutibili non discutibili non lo so però finanziano quindi non ci prendiamo in giro anche nei paesi anglosassoni dove il mercato funziona particolarmente bene esiste una cosa che si chiama tax credit che ti permette di come dire spendere una minima parte per realizzare un prodotto e di avere sostanzialmente un finanziamento pubblico la dico beh poi in realtà è una cosa molto complessa ho sentito ho sentito questa cosa mi dispiace molto perché non voglio parlare di politica però ho sentito ultimamente che c'è l'idea malsana di non finanziare più le opere cinematografiche le opere cinematografiche perché perché ci sono dei film che dal loro punto di vista come dire come dire recuperano un sacco di soldi ci vanno 10 persone 14 persone certo ok va bene ci sta ci sta sta cosa io capisco pure che finanziare a pioggia eccetera eccetera ma fare una questione perché lo dicono perché lo dicono i registri prendono un sacco di soldi poi che ci sta dietro guadagnano due soldi ok guardiamo questa cosa volete rivedere come dire la ridistribuzione sul territorio perché poi c'è anche quel discorso dell'outsource che tornò al discorso dell'India molte società che fanno post produzione o che fanno parte della produzione perché fanno per risparmiare un pezzetto o un bel pezzetto lo mandano fuori certo perché in India ti costa un quarto un quarto in realtà non è proprio così ma non ti costa quanto in Italia certo se costasse anche la metà costasse anche il 20% in meno sarebbe un grande sconto rispetto a quello ma questa è una cosa che non è che succede in Italia succede in Canada succede in Stati Uniti succede in Inghilterra certo noi quando lavoravamo lì da remoto in Inghilterra poi c'era lo studio inglese ah certo che scusa lo studio indiano indiano in Inghilterra io no c'era lo studio inglese in India ah ok c'è lo stesso studio che aveva praticamente una filiale indiana è chiaro che è uno stratagema fantastico sì sì fantastico perché io cioè invece di darti 3 4 5 mila stelline al mese te ne do 2000 te ne do 2000 1500 però io non ho a che fare direttamente con il con l'indiano con l'indiano ma ho a che fare con la società con la società che poi se la vede lei certo fantastico c'è un sistema fantastico per cui allora l'Italia che comunque ha delle potenzialità perché poi che cosa è successo è successa un'altra cosa importante nel mondo del cinema non so se hai sentito parlare degli strikes cioè degli scioperi praticamente però aspetta no allora ne parliamo ti assicuro ne parliamo però questa intervista doveva essere su di te sì io sto parlando sto facendo per cui io mi nascondo no io adoro quello che dici e sono fondamentalmente d'accordo con te e mi piacerebbe farlo però tu sei qui perché mi interessi tu poi possiamo anche poi possiamo anche parlare della politica volentieri no no intendo dire la politica intesa proprio nel senso della produzione nel senso economia politica insomma parliamo di te quando di solito capita che un po' tutte le persone che sono state qui da me hanno scoperto che a un certo punto della vita che volevano fare quello che stanno facendo adesso sì io la chiamo la scintilla e la domanda è tu ti ricordi il momento esatto in cui hai detto questo è quello che voglio fare allora qui dirò una cosa un po' strana ok perché molti mi hanno chiesto a volte mi è anche successo qualche coetaneo o leggermente più grande che ha dei figli che stanno studiando ma sai mio figlio vorrebbe fare il tuo lavoro e io ho detto perché ho dato sempre la stessa risposta io non so perché mi ritrovo a fare questo lavoro ah davvero che sembra una cosa una barzelletta sembra di sì vabbè non gli vuoi dare una risposta ti vuoi tenere tutto dentro in realtà ci si arriva a fare questo lavoro cioè oggi magari cinque sei anni fa avrei detto sì fai questo percorso eh ai nostri tempi diciamo era difficile ai nostri tempi che ne so finivi liceo finivi non lo so eh ero a zoneria e dicevi ok che vuoi fare medico avvocato ingegnere architetto che vuoi fare già l'insegnante dice no ma lì si guadagna poco oggi eh con la liberalizzazione un po' del dei percorsi universitari ci sono anche i percorsi universitari poi se vuoi parlo anche di quello che insomma vabbè io personalmente io personalmente che avevo iniziato a fare in illo tempo le fotografia poi video mi ricordo sì sì poi quando andavo quando lavoravo per i miei clienti soprattutto alcuni video un po' particolari no e mi si chiedeva dice no ma qui noi abbiamo visto questo effetto quella persona che spariva quella persona le prime cose no che si vedevano online sui video anche su youtube o i film dell'amarlo dice vedi questo qui che da qui a qui corre fa con la scia con la scia ma non è che si può fare sta cosa a me la roba quella roba sempre interessante cioè io mi ricordo quando mi andavo a comprare le videocassette per vedere starship troopers mamma mia che cos'era cioè noi andavamo ad affittare che c'era internet o trovavi la roba non lo diciamo vabbè andavi ad affittarti no la videocassetta e ti andavi a vedere quel film ti andavi a vedere quell'altro film perché poi magari al cinema ti andavi a vedere che ne so Matrix però poi lo volevi rivedere eh sì e quindi ti andavi io quindi anche dalla fine degli anni 90 io avevo comunque un occhio su queste cose un po' come tutti no i primi videogiochi cioè comunque noi abbiamo assaggiato un attimo quel mondo però effettivamente non sapevamo che come si fa ci sembrava la fantascienza chissà chissà come l'hanno fatte queste cose certo e chi ha realizzato quelle cose veramente è stato un pioniere quindi ho visto quel mondo sempre molto lontano del vabbè ma io una gretina cioè come posso fare non so quante volte io speravo di andare a lavorare per Industrial Light c'è un bel documentario su Disney Plus sì 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 che forse tu hai già visto dove proprio spiegano l'evoluzione dalla dall'animazione diciamo a mano dei mostri alle prime implementazioni in computer grafico lo stop motion lo stop motion non mi veniva il tempo passo passo i primi King Kong Godzilla erano fatti così erano fatti così c'era mica c'era una computer grafica che comunque ha mossi i passi a fine anni settale però parliamo di cose poi noi stavamo a Trani ovviamente stavamo a Roma che dice vabbè a Roma vedevi delle cose cioè a Trani che cacchio vedevi certo ti compravi la rivista certo era un po' più complesso e quindi io quel mondo l'ho visto sempre lontano poi a un certo punto è nata proprio l'esigenza di iniziare a fare qualcosa sì diciamo ma se inizia a fare sta cosa quest'altra e allora l'appetito è venuto a mangiare ma a proposito allora incomincia a fare questa cosa quest'altra cosa quest'altra cosa ma qui questa cosa non la puoi fare più con le immaginette la devi fare in computer grafica poi la devi mettere dentro e di là incomincia a scoprire a fare ma è venuto così cioè non è che io ho detto io voglio fare questo oggi voglio fare questo è stata un'evoluzione poi ho iniziato a frequentare online persone che facevano questo lavoro più brave di me più esperte di me che magari già lo facevano e ho cominciato a rubare il mestiere a rubare un po' il mestiere no? quindi lì diciamo il mio talento qual è stato? essere stato in grado di carpire al momento giusto le informazioni che poi mi sono servite per poter sviluppare quella che è la mia attuale professione sto pensando che questa cosa cioè alla fine tu sei andato a bottega anche se online però sei andato a bottega ma io sono sempre andato a bottega perché io non mi ritengo troppo intelligente quindi io quando mi dico no vabbè io ho imparato vedendo sì vabbè quello che puoi imparare da una persona certo non lo puoi imparare da sola perché specialmente su cose molto complesse tu hai hai proprio una difficoltà proprio l'approccio che è complesso lasciamo perdere che ora trovi il video della qualunque certo che ti spiega qualunque cosa ma quando ho iniziato io era un po' più complicato quindi ho detto vabbè c'è qualcuno che lo sa fare ho cominciato a parlare a fare ma non perché io volessi rubare qualcosa io volevo collaborare che è poi la cosa che ho fatto perché io poi con queste persone ho iniziato a collaborare e sono passata a un ruolo junior da un ruolo junior a un ruolo senior e quindi praticamente da volevo usare una parola dai usa un termine un concetto latino da diciamo da come dire apprendista strega stregone insomma a primus interparisi cioè a lavorare allo stesso livello poi voglio dire ognuno di noi sviluppa meglio alcune cose altre cose perché è così però io ho avuto sempre rispetto cosa che io non vedo attualmente io adesso mi ritrovo io al contrario a parte inversa che mi ritrovo magari dei ragazzi che mi chiedono non sono tantissimi perché io poi sono poco social quindi faccio poco vedere quello che faccio ma non lo faccio un po' per pigrizia un po' perché dico devo imparare anche io tante cose ma mi metto a insegnare scusate diciamo il linguaggio poco e allora però vedo nei ragazzi molta prosopopea sono tutto io sono tutto io no ma io l'abbiamo visto anche a Londra no non tanto ai miei confronti perché io di solito quando ho a che fare con ragazzi molto giovani ho un atteggiamento un po' equidistante c'è come diciamo dopo la confidenza quindi evito anche di espormi perché appena ti esponi e fai un piccolo errore che è normale qualsiasi lavoro la intervengono a gamba attesa ah no ma io questa cosa l'avrei fatta così perché effettivamente vabbè poi alla fine arrivano a un punto si fermano certo e chiedono aiuto e chiedono aiuto certo e poi tu devi andare lì a sì ma sta cosa allora io evito proprio gli scontri i famosi scontri generazionali che ci sono a me quasi mai capita però qualche mio collega è capitato e io gli ho sempre detto guarda secondo me sbagli perché ti metti al loro livello poi ho conosciuto invece dei ragazzi bravissimi tranquilli che con umiltà cioè non è che sono tutti così certo però ho visto tanta prosopopea o magari una volta finendo scherzando facciamo una una call con un nostro collega che aveva aperto una nostra una società a Roma e aveva già con lui dei ragazzi che lavoravano che facevano nel nostro lavoro le situazioni aveva una schermata sta lui e sto ragazzo con la maglietta con la scritta del software che noi usiamo qua sto io qual è il nome del software Maya? Udini 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 come dicono gli angosassoni che diciamo Maya si usa soprattutto per le animazioni per per fare altre cose Udini Udini si usa soprattutto per fare simulazioni è ormai il software che si usa in tutte le pipeline ok io avevo una maglietta Udini io ce ne ho due a casa non l'ho mai indossata perché come se dici io uso questo software io sono competente quindi tu che vuoi ok questo è un lavoro fatto in squadra poi quindi è complicato quindi io ho sempre un atteggiamento ti ha dato proprio fastidio questo questo più che dalla me l'ha dato al mio collega ma guarda quello e oggi e oggi noi diciamo sicuramente perché a volte noi facciamo dei si chiamano anche nel nostro settore gare d'appalto certo ci sono delle società che dicono dobbiamo fare questo piccolo lavoro quindi non l'assunzione ti chiamano outsourcing quindi la la logica del pacchetto diciamo per questo lavoro abbiamo tot magari piccole società sì noi facciamo la nostra offerta non la prendono il mio collega dice sì sicuramente lì c'è qualche maglietta che ha fatto però io penso allora scusami sono andata molto in profondità oggi qualcuno mi odierà se è questa cosa però sto pensando fammi fare questa considerazione io di solito intanto se era un ragazzo molto giovane io mi aspetto sempre del fatto che parta dall'ammirazione per una determinata cosa non e poi per la voglia di voler imparare quando tu sei dentro oramai di quel marchio di quella cosa non ne vuoi più neanche sapere lo capisci per esempio con il mcdonald's ai bambini che vogliono andare magari poi ci vanno a lavorare e poi non ne vogliono più sapere o per le grandi marche se vogliamo quindi è così come mi aspetto le persone che lavorano nel campo musicale che magari utilizzano una determinata marca però non la ostentano a meno che non hanno un contratto di ostentazione non so se mi spiego mentre chi lo fa è perché non ha un contratto per questo e quindi ambisce a quella cosa senza in realtà padroneggiarla esatto ma questo poi ritornando ad Anna cioè io penso che in questo settore ci sia come dire un aspetto mediatico un aspetto di realismo no? sì io curo molto poco l'aspetto mediatico tu non sapevi niente di me vero perché perché penso faccio sempre un passo indietro dico ma io alcune cose non le so fare o non le so fare come penso vadano fatte quindi faccio sempre un passo indietro non sto lì io vedo gente proprio cioè proprio quasi woke a olick nell'esposizione mediatica oggi ho fatto questo oggi ho fatto quest'altro oggi questo ragazzi cioè oggi ti arriva un ragazzino particolarmente dotato perché io li ho conosciuti che ti spiazza cioè oggi non è perché poi i social sono anche il luogo diciamo della cattiveria perché poi che cosa succede è che lo scontro generazionale porta da ambo le parti a intervenire è vero che sono più ragazzi che no per farsi come dire strada ah ma io questa cosa l'avrei fatta così vabbè ok non c'è bisogno di scriverlo pubblicamente magari mi scrivi prima dici senti io questa cosa magari l'avrei fatta così io alcune volte ho fatto così ho detto senti ma mi ritrovavo in alcuni forum c'era una persona che aveva fatto una domanda al capo del forum quello che aveva creato il forum su una cosa e non riusciva a dare una risposta perché lui era molto competente lui faceva i corsi intervengo gli scrivo pubblicatamente senti ma sta cosa io l'ho provata a mesce così ah dice sì effettivamente potrebbe funzionare allora sommessamente ho detto vuoi che lo dica io no no lo dico io ok io avrei tranquillamente potuto fare mettere una risposta di guarda che fai così quello non mi avrebbe potuto più vedere però era un tipo un po' particolare ah ok molto permaloso molto permaloso ma io o sei permaloso o sei accondiscendente non riesco cioè è proprio una cosa più forte di me cioè preferisco qualcuno potrebbe dire ma forse per una tua insicurezza no anche quando sono molto sicura delle mie cose evito perché poi questa è un'arma a doppio taglio perché poi questa cosa ti ritorna un po' contro quindi tu dici vabbè è una forma tua di cautela perché poi temi no è una forma anche di educazione senti ti ricordi più o meno quando hai cominciato cioè anche orientativamente tre quattro cinque dieci anni fa quando avevi sei anni perché poi stavi facendo fotografia stavi facendo video e a un certo punto hai detto ok voglio passare a quest'altra cosa quindi avevi attenzione perché è importante tu avevi competenze di fotografia competenze di video ho avuto anche un premio ho avuto anche un premio in fotografia per il FIOF che non è proprio una robetta così sì avevo queste competenze ho fatto anche delle valutazioni diciamo di mercato ok sono sincera ok come sono sincera su alcune cose a mio favore dico che anch'io ho fatto delle valutazioni diciamo nove anni fa otto nove anni fa che il settore fotografico e video stava diventando un settore troppo inflazionato troppo inflazionato ma non perché ci fosse più competenza semplicemente perché la tecnologia ti permetteva permetteva a chiunque di fare comunque un prodotto un prodotto buono cattivo un prodotto ok quindi ho detto vabbè se per fare questo ci vuole niente per fare questo cioè tutto quel lavoro che io facevo per fare questo era tempo perso ho detto questo lavoro scusa il gesto lo posiziono qui quel tempo lo dedico sarà più lungo sarà come dicono quelli bravi una lunga attraversata nel deserto però ci provo che cosa ho da perdere non avendo diciamo obblighi familiari eccetera eccetera e quanto tempo ci hai messo poi per cominciare ad essere ad entrarci davvero in quel mondo penso che allora c'è gente che io non ci credo ci mette uno due anni penso che per essere credibili ci vogliono almeno quattro cinque anni per incominciare a fare qualcosa conosco gente che fa questo lavoro da 15-20 anni e quindi ha vissuto tutte le evoluzioni del software ha vissuto le evoluzioni e anche della produzione perché c'è non solo ma in realtà questo software di cui abbiamo fatto abbiamo parlato prima in realtà molta gente non non è nata con questo software usava Maya certo Softimage certo che è un software fantastico che poi una famosa azienda proprio Italia di anche Maya ha acquistato per ucciderlo è la classica politica di prendere la concorrenza e ucciderlo certo quindi poi morto quel software che permetteva di fare le famose simulazioni io ho visto parecchi spot ma anche parecchi film utilizzati in Softimage o Lightwave cioè c'erano un sacco di software un bellissimo film è Elysium che tu magari avrai sicuramente visto Elysium è fatto con Lightwave Softimage Softimage non era fatto con Udini Udini perché è diventato importante perché poi molti questi c'era questo software che si stava stava scaldando che in realtà è un software che nasce alla fine degli anni 80 più o meno si chiamava Prisma ah ecco e poi poi ha avuto le sue evoluzioni insomma è una roba che è cresciuta qual è stata la chiave la chiave di volta per cui questo software è diventato come dicono quelli bravi l'industria standard per quel settore certo quando poi le licenze che poi ragazzi i software si comprano cioè non è io conosco un sacco di gente no ma io me lo scarico no ricordiamoci sempre se tu scarichi un software stai rubando stai rubando e se arriva qualcuno che ti chiede un lavoro e tu stai lavorando con un software craccato non ti succede niente probabilmente poi in realtà non è proprio così però tu se non hai rispetto per il software non puoi avere rispetto nemmeno per il tuo lavoro quindi è facile puoi chiedere sì vabbè te lo faccio con pochi soldi certo ovviamente a discapito di chi compra i software di chi spende soldi per le licenze e tutto il resto insomma quindi questo software è diventato importato ho detto io devo imparare a fare cioè follia perché è una roba complicatissima cioè tutt'oggi dico ma io cioè che che ma quella quella malattia però io ho sempre avuto un'attrazione nei confronti delle cose complicate anche quando suonavo certo mi ricordo anche lo strumento che suonavi che non era una chitarra normale che cosa vai imparare la pedal steel di carri infatti i miei amici che ancora suonano dicono ma te com'è che ti è venuta in testa sta cosa la pedal steel stesso motivo serviva una pedal steel io io senza sapere a che cosa andavo incontro e allora ho vissuto la mancanza di internet quindi si compravano ste videocassette in ntsc ah quindi con tutta la conversione si no ma tra l'altro trovai un registratum multistandard ah ok false cam ntsc poi allora non è che si potevano comprare le videocassette in italia certo allora si andava dall'amico che aveva internet poi si chiedeva la cortesia a chi aveva la carta di credito che non era un amico ma era lo zio dell'amico poi aspettavi due mesi che avevi ste cacchie di videocassette che poi ti arrivavano e poi ti mettevi lì ore e ore e io allora per fortuna avevo quella che da casa è diventata studio perché mia madre mi senti io non ti posso proprio sopportare questa cosa perché poi all'inizio era complicato non ti raffoni qualcosa di buono e per cui per cui diciamo mi spostai un attimino e cominciai lì a imparare e quindi sempre cose complicate sempre cose non facili perché poi comunque alla fine dici vabbè potevi continuare a suonare la chitarra ah certo no perché volevo imparare questa cosa perché mi ha cioè io rimango sempre affascinato dalle cose dalle mission impossible poi magari ti poni di arrivare a dieci e arrivi a sette sette e mezzo otto però sono contenta perché comunque do uno scopo alla mia vita cioè fondamentalmente senti credo che questo sia il momento per introdurre una prima rubrica che per la quale ringrazio Dario Martinelli Dario esattamente e ti faccio questa domanda la domanda è questa visto che siamo passati al campo un attimo al campo della musica se c'è una canzone che ti piace ma che non ammetteresti mai che ti piaccia quindi non so se hai compreso la allora io c'ho un limite ma un limite grosso come una casa ok sostanzialmente tu stai parlando di una musica con un testo o anche no anche però che tu che magari non non ammetteresti mai di dire che ti piace anche se a te piace è una domanda difficile ma sai perché perché io adesso con la musica ho un rapporto molto equidistante è una famosa in realtà poi metto sempre un po' di musica di sottofondo ma cambio sempre ok diciamo che diciamo che sono rimasto un po' legata alla musica Glam anni 80 ok non ci prendiamo in giro cioè la musica che che ascoltavamo di cui compravamo i dischi poi i chitarristi famosi c'è ancora dei vinili Steve Vai Giussatriani tutta sta roba qui no che noi sognavamo di emulare e poi diciamo non voglio fare brutte figure perché qui sono passati anche i chitarristi molto bravi insomma di cui voglio dire cose di cui pentirmi e quindi lo diremo poi a Michele guarda ecco ecco e quindi poi io adesso ascolto musica che ascoltavo anche prima che iniziassi a suonare ieri per esempio stavo ascoltando un motivo famosissimo adesso un momento di vergogna di Pazzi Kensit dai bellissimo che non mi ricordo come si chiama è il pezzo più famoso ce ne sono due di famosi una con Ramazzotti no e l'altra è uno dei primi suoi successi I don't care quella lì sì esattamente quella lì quindi adesso Dario dire vabbè alla pietà no al contrario credo che invece perché poi ci sono delle cose che ti vanno proprio va in fissa sì 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 che non c'entrano proprio niente perché poi di solito metto dei tappeti di musica elettronica anni 80 quella roba che gira su youtube che non dà fastidio la metti sotto però ieri ho detto ma io c'ho voglia di sentirmi sta cosa mi devo vergognare no la voglio sentire perché poi è legata anche a cose mie personali senza approfondire per cui quella quella canzone io l'ascoltavo quando sentivo qualcosa dentro di me di molto forte e quindi è più legata alla mia alla mia interiorità che non diciamo quello che faccio per per lavoro o come diciamo condivisione con col mio mondo esterno riguardo alla mia interiorità quindi era un modello sia umano che musicale insomma questo è quindi rappresenta una cosa più mia più interiore mi piace so che è una banalità perché no 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 anzi io non riesco ad ascoltare quello che c'è adesso in giro non riesco proprio ad ascoltarla ma non per questioni perché adesso cioè adesso veramente cioè in realtà si è sempre fatta politica però adesso proprio ci sono gli schieramenti no quell'artista è di destra quell'artista è di sinistra quell'artista è così ah ma quello canta in arabo ah ma quello canta io sento soltanto porcheria certo cioè io sento suoni suoni sento roba ma ci vuole tanto a fare sta roba cioè non lo so cioè noi ci impiccavamo a fare delle robe che venivano malissime tra l'altro insomma che venivano malissime però almeno noi ci impegnavamo a fare qualcosa adesso sento un parlato con un sottofondo a me non interessa chi lo fa chi non lo fa perché poi seguendo un po' le trasmissioni no che poi vengono studiate ad hoc per rappresentarti un modello positivo o un modello negativo però cioè l'argomento che manca è proprio la musica quindi io diciamo che ho smesso di ascoltare musica soprattutto musica rock all'inizio degli anni 90 ok quando è vero che la musica che lei mangia 80 il 70-80% di quella roba era molto ripetitiva molto vabbè era un genere era un genere poi sono arrivati nirvana che hanno rappresentato un po' uno spartiacque e voglio dire i primi successi di nirvana effettivamente hanno un po' colpito perché avevano una potenza comunicativa molto forte quindi rappresentavano una generazione che stava cambiando no era proprio che poi prima che cos'era era sesso droga e rock and roll adesso era droga e rock and roll senza più e secondo me era solo droga perché poi la cosa che non riuscivo ad apprezzare era sto fatico noi ci siamo impiccati a imparare a fare quel riff quella roba poi sono arrivati questi una schidarrata però effettivamente avevano una potenza comunicativa che gli altri non avevano quindi avevano qualcosa da comunicare quegli altri in realtà non avevano da comunicare cioè arrivava lì il cantante questi capellini lunghi truccato che ti faceva questi urli poi arriva l'assolo megagalattico era sostanzialmente questo quindi poi non c'era un compromesso poi ho iniziato ad ascoltare quei gruppi tipo i Dream Theater queste cose che erano un po' una via di mezzo c'era la tecnica e c'era anche un po' la musica poi non ho ascoltato più niente cioè adesso adesso non so che cosa c'è non riesco più a seguire ho scoperto a proposito del sottofondo dei tappeti che ti vengono i lo-fi che in realtà sono comunque battute di musica molto molto tranquilla che ti accompagnano e magari hanno questo fruscio di fondo che magari sentivi sul vinile questa cosa qui però sono molto ripetitive sono giri di accordi sostanzialmente non c'è una melodia vera e propria e che ti accompagna durante tutte le cose anche perché è una musica che ti piace ascoltare mentre stai facendo un lavoro di concetto ti distrae quindi è meglio avere un tappeto perché quando stai in studio non c'è nessuno che scambi la parola è vero che noi passiamo le ore su Discord su Skype magari anche in silenzio davvero? sì diciamo degli amici comuni a Trani ogni tanto ci facciamo delle lunghe sessioni ognuno fa le cose sue e si sta senza parlare e si sta senza parlare magari condividiamo lo schermo facciamo dei ricavoli nostri certo e poi ogni tanto si tira fuori qualche argomento si fa un po' di pettegolezzo poi alla fine non siamo molto cambiati e quindi magari un tappeto un pattern una cosa che è ripetitiva ma che non ti distrae può essere una buona soluzione ma vado ok cerca cerca questa cosa lo fai non lo fai proprio lo trattino lo fai ok senti torniamo alla parte di visual artist visual ftec visual ftec siamo sciogliati ufx artist ufx ok mi viene proprio difficile se dobbiamo usare l'inglese usiamo la cronoma non ci risco proprio va bene no in realtà direi che possiamo passare alle alle ultime cose che hai realizzato e delle quali puoi parlare allora io mi piacerebbe un po' affrontare questa cosa poi ovviamente se proprio non puoi di silenzio della cosa che dici no no vabbè diciamo io ho visto che comunque hai lavorato con player nazionali cioè hai lavorato con Mediaset con Rai anche sbaglio no no Mediaset Mediaset abbiamo fatto un paio di cosucce su quello posso parlare tranquillamente anche perché tra l'altro c'è un articolo su Trani Viva che parla di sta cosa svegliati amore mio con Laferilli e c'erano da fare allora la fiction è idealmente ambientata a Taranto in realtà non è girata a Taranto è girata in un altro posto ma praticamente si parla di Taranto dell'Ilva eccetera eccetera e sulle ripercussioni negative lo sappiamo tu venuti che so ripetere quindi c'era da realizzare sti fumi di stessi miniere e poi c'è una scena diciamo importante quando poi c'è l'episodio l'incidente in cui una di queste ciminiere ha un'esplosione praticamente ma non un'esplosione in cui si diciamo esplode la struttura un'esplosione interna per cui praticamente c'è una fiammata enorme che esce da uno dei non so come si chiamano insomma tre due cammini alla fine di partire e insomma c'era da fare tutte queste ciminiere queste cose che poi diciamo abbiamo realizzato e poi le abbiamo messo un po' in loop e poi c'era da fare questa cosa in cui la Ferilli si inginocchia e viene vestita no no si mette a piangere perché c'era il marito nella ciminiere insomma non mi ricordo se è buona non mi ricordo tutte queste cose estruggenti insomma e c'era da fare questa esplosione abbiamo fatto questa esplosione e noi abbiamo lavorato in outsourcing per uno studio di Roma allora funziona così il regista fa insieme alla casa di produzione fa il film poi la parte diciamo di effetti visivi cioè quelli in post produzione la post produzione non è soltanto gli effetti visivi poi la color correction perché noi ma anche eventuali doppiaggi o aggiunta esattamente sono fatti da studi esterni quindi ci sono degli accordi per cui lo studio esterno fa fa questo lavoro allora lo studio esterno che faceva i UFX ha fatto una parte quindi ha dovuto ricostruire in 3D tutto tutte le ciminiere perché poi il problema qual è che quando tu devi applicare degli effetti visivi hai bisogno di un'ambientazione tridimensionale non lo puoi fare direttamente sulle immagini anche perché devi applicare ai flussi eh sì perché se voglio dire questa è il tubo della cimiera il cammino e tu devi fare l'esplosione l'esplosione deve partire dall'interno quindi qui devi mettere qualcosa che devi coprire certo quindi hai bisogno poi di questa cosa che ti guida l'esplosione quindi che te la modelli un pochettino certo non puoi farlo così poi vabbè non stiamo a spiegare vabbè che cosa no vabbè vabbè come si lavora un po' vabbè vabbè arrosti e mangia diciamo che poi alla fine ti devi un po' arrangiare certo mi ricorda sempre la battuta del film e la main quando Solfrizzi fa la domanda all'ufficiale che loro se ne salgono in camionetta e se ne scappano gli ufficiali italiani e quelli tedeschi dell'Africa Corps e loro rimangono a piedi e noi come dobbiamo fare e l'ufficiale italiano dice un soldato italiano sa sempre come trovare una soluzione allora mi è rimasta impresa sta cosa ha fatto il soldato italiano ha fatto il soldato italiano e dice vabbè come dobbiamo fare e quindi ti devi un po' arrangiare allora alcune volte noi ma mi è capilato spesso spesso anche studi molto grossi che alcune cose non ti venevano fornite alcuni elementi su cui tu devi andare di costruire la simulazione quindi tu hai dovuto arrangiare anche l'elemento in 3D su cui costruire la simulazione certo questo è un limite ma a volte è anche una scuola cioè nel senso che poi certo tant'è vero che molte volte dice vabbè allora questa cosa facevamo no 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 ce l'abbiamo noi ah ah beh allora bene quindi noi abbiamo fatto questa cosa e che in realtà mi ha dato la possibilità no perché poi chiamai l'uscita dei mari e dissi guarda ho fatto questa cosa qua ah dice no ti devo fare per forza l'intervista è una tranese che ha fatto questa cosa e quindi uscì l'articolo su traniviva no ma ma senti una cosa no in realtà io quando hai detto ce l'abbiamo noi ho fatto 2 più 2 ho pensato alle librerie ovvero ovvero voi avete realizzato questa cosa nel senso che avete proprio programmato come doveva muoversi il fuoco all'interno di un all'interno di un corpo che non è una cosa semplice perché generalmente noi facciamo le esplosioni che hanno dal punto di vista dinamico non so un termine complicato un approccio piroclastico cioè il vulcano quindi continua a a a bollire e quindi è come una fiamma no quindi c'è una cosa propulsiva il fumo della della ciminiera invece è un fumo che si propaga nell'aria certo quindi non c'è una una propulsione piroclastica c'è questo fumo che si muove e quindi è stato complicato fare questa cosa che non c'è il tool schiaccia il pulsante e fammi le e quindi noi abbiamo creato proprio gli asset che si chiamano così librerie asset per poi poterli come dire riutilizzare su più ciminieri non è che per ogni ciminiera fai certo e quindi magari uno parte prima uno parte dopo uno lo ruoti un po' così uno lo ruoti un po' così alla fine è fatto anche perché è roba che si vede in lontananza altre cose vengono proprio realizzate con dei disegni si chiama digital matte painting cioè praticamente si disegna in digitale un fondo dove ci sono queste immagini con degli edifici che non ci sono nella realtà e si mettono lì non sono fatti nemmeno in CGI in computer grafica quindi sono in due dimensioni non sono sono bidimensionali quindi è un po' complessa la cosa cioè una produzione un lavoro non è uguale all'altro cioè ci sono delle cose nel matte painting non è una cosa ah sì vabbè arrangiamo col matte painting è una cosa comunque che va fatta bene certo però ho visto alcuni lavori ad esempio dove per mancanza di fondi sti matte painting erano proprio avanti e qualcosa la vedi che non si muove dici vabbè ma scusate c'è qualcosa di strano sembra di stare a teatro dicendo no non si muove no vabbè dai poi diciamo avendo a che fare spesso con Roma era un dai e conti vabbè dai e andavo dai e quindi erano un po' così quindi poi la parte nostra è stata quella poi abbiamo fatto o sul plurale non perché plurale maestate abbiamo fatto perché effettivamente questo lavoro si fa in team io il mio amico il mio collega dico amico perché infatti prima quando mi ha chiamato la telefona era lui come si chiama Matteo Migliorini ciao Matteo ciao Matteo abbiamo fatto più forti del destino che è sempre una fiction per per Mediaset sempre in outsourcing per uno studio di Roma importantissimo e lì è stato un lavoro un po' più complesso perché c'erano degli attori che praticamente che cosa succede c'è un incidente all'interno di questo teatro a Palermo e la gente si trova nell'incendio quindi qualcuno prende fuoco ce ne è bruttissime allora una volta si faceva con gli stuntmen certo e quindi si dava fuoco davvero sì poi ho scoperto perché in realtà si mette un gel su questi attori che poi il gel è furbo perché dico una cosa un po' brutta quando una persona prende fuoco si comincia a sciogliere la parte e quindi questo gel come dire dà l'idea che effettivamente la persona stia prendendo fuoco però diciamo in tempi lontani effettivamente prendevano fuoco ed era una cosa pericolosissima perché erano fiamme vere adesso non si fa più quindi si mettono delle fiammelle che comunque ci sono e poi tutto il resto lo devi mettere in computer grafico quindi tu immagina dover applicare una fiamma simulata su una cosa che si muove è stato un delirio perché poi praticamente questo si muoveva la fiamma rimaneva fissa quindi agganciare questa fiamma a questi soggetti che si muovevano dove poi c'erano i famosi puppet questi modelli in 3D è stata una cosa un po' complicata perché poi sostanzialmente è stato questo il grosso del lavoro domanda ma in fase di proposta economica perché poi alla fine è un'altra domanda non sono sicuro che sia quello voi avevate già immaginato quanto tempo vi sarebbe vi sarebbe vi ci sarebbe voluto oppure e quindi avete fatto una proposta economica adeguata oppure l'avete buttata lì immaginando ma quando vi siete trovati effettivamente col lavoro poi avete avuto la mazzata che vi serviva il doppio del tempo allora ti manca un tassello ovvero ci sono delle situazioni in cui mi serve ieri diciamo per chi lavora nel settore diciamo un po' informati un po' comunicazione anche mi serve per l'altro ieri mi serve per l'altro ieri no ma sai abbiamo provato a farlo però non ci è uscito bene quindi quando vi serve abbiamo una deadline di 15 giorni abbiamo avuto delle deadline a volte veramente pazzesche ma questo significa semplicemente che voi lavorate 24 ore al giorno non che quindi se io per esempio potevo dire a mia madre questa sera non ci vediamo oggi non vengo a pranzo qualcun altro che magari sposa altro figlio certo deve rendere conto alla famiglia deve rendere conto perché ha una famiglia e quindi deve dedicare uno spazio litigate cioè delle robe allucinanti credo per poi scoprire che queste deadline a volte sono troppo sono semplicemente modellate apposta per farvi fare più velocemente perché dice perché qual è il il discorso siccome in questo settore si lavora a giornata cioè quanto mi costi a ora certo poi veniamo alla famosa logica del pacchetto certo allora noi sappiamo benissimo che specialmente in Italia specialmente nell'outsourcing non puoi chiedere quello che chiedi a Londra o in Canada anche da remoto certo o in Germania o per grossi studi le reti sono molto più bassi infatti c'è molta gente che è tornata in Italia c'è un sacco di gente che è tornata ma continua a lavorare per loro o continua a lavorare per loro oppure perché è finito il contratto e sono tornati in Italia e dici vabbè ma ma che dobbiamo fare ma in Italia si guadagna poco certo infatti magistra minestra o niente insomma quindi noi che facciamo più o meno facciamo una valutazione siccome già sappiamo diciamo ok facciamo una cosa noi per tutto questo lavoro chiediamo logica del pacchetto chiediamo questa cifra va bene più o meno ci stiamo dentro il più delle volte cioè non ci stiamo mai dentro perché poi noi facciamo sempre l'offerta ma poi di quei soldi tra tasse costa quant'altro ci siamo nella metà certo quindi in realtà specialmente in Italia lavoriamo poi per avere un titolo IMDB in più certo per aumentare il nostro curriculum quindi per noi i titoli di coda sono molto importanti cioè valgono più quelli che quello che abbiamo guadagnato certo perché quella cosa cioè mentre per un lavoro normale tipo medico l'avvocato o quello che sia ci sono degli albi professionali quindi ma credo anche nel settore informatico nel settore informatico esistono ormai da decenni le lauree però tu sai meglio di me che una persona che magari non è laureata ma che ha vent'anni di esperienza ti riesce a risolvere un problema un laureato in informatica non riesce a fare questa cosa perché non ha quell'esperienza quel know-how che tu acquisisci soltanto quell'esperienza certo perché tu hai fatto tante cose e così nel nostro settore qual è perché adesso ci sono anche i titoli accademici nel nostro settore i vari accademi lo IED la NAB eccetera ci sono percorsi o ci sono scuole molto specifiche che adesso poi con la liberalizzazione un po' dei titoli non so come funziona comunque la laurea triennale la puoi acquisire allora chi sta nelle strutture negli studi nelle società questa cosa la sa bene quindi ti dice ok va bene se c'hai un titolo però voglio vedere il tuo curriculum certo quindi l'IMDB è il vostro curriculum è sostanzialmente il nostro curriculum insieme alla reel cioè un video dove tu fai vedere che cosa hai fatto o cosa sai fare e anche l'evoluzione che hai avuto nel tempo diciamo che di solito si fa vedere l'ultima reel beh certo è chiaro che non fai vedere la roba quando hai cominciato fai vedere le cose ultime che come dire spaccano certo adesso le cose sono ulteriormente cambiate che cosa succede oggi che oggi banalmente un junior fa dei si prende dei tutorial dei corsi li rifa e li propone come reel ok quindi cosa succede che il recruiter dice ok tu sai fare questa cosa poi mi piace da parlare anche del discorso del recruiter il recruiter non è una persona che sa fare il tuo lavoro certo è una persona che fa il recruiter certo quindi magari fino a ieri faceva il recruiter a Ikea certo e non sto dicendo una cosa che mi sto inventando no no lo capisco perché non è successo oggi lavora lì in un settore quindi lui che fa poi ci sono dei recruiter che qualcosa l'hanno masticata perché hanno lavorato in altre società e quindi cominciano a capire un po' come funziona riescono a leggere la tua rilla poi ti passano al diciamo a un supervisor che è invece uno che fa il tuo lavoro certo che magari poi è scocciato di fare il tuo lavoro il suo lavoro nel senso che dice palmo mi sape di queste cose e quindi è come già tirarti fuori no dice tu sì tu no tu no tu no tu no tu no tu no ritornando al discorso del giugno che magari adesso ho fatto il corso ho fatto i corsi eccetera eccetera oggi fanno questo ragionamento i recruiter e i supervisor se questa persona è in grado di farmi questa cosa in un mese ok è in grado di farmi questa cosa più semplice in una settimana ok quindi dice ok prendo questo perché perché se arrivo io e chiedo 300 al giorno stelline euro eccetera eccetera lui ne chiederà 100 certo quindi lui dice ok prendiamo questo perché tanto prendo al posto di Anna tre persone certo io avrò un lead all'interno del mio studio che gli fa il setup ho tre persone che lavorano al posto di una perché tu è vero che più esperienza più know-how problem solving ma alla fine devi usare sempre il setup che devi usare il junior quindi allora il famoso discorso che si faceva prima fuori onda non è vero che il senior il mid senior è appetibile è appetibile fino a pagina 2 ah ok dove tu riesci a inserirti nel mercato laddove tu lavori in outsourcing dici ok piccola società piccolo lavoro quindi non quando tu vai a lavorare per qualcun altro da remoto sulle loro macchine quando lavori a casa tua o nel tuo studio con le tue macchine quindi dai un prodotto finito è lì che ti dicono abbiamo un budget di 4.000 euro ok certo serve questa cosa prodotto finito perché tanto se non lo fai tu c'è lo studio indiano o lo studio in Azerbaijan e non sto dicendo come dire non mi è a caso non mi è a caso perché sappiamo certo in Iran posso qualsiasi mi è il nuovo però in Iran mi è il nuovo anche io abbiamo conosciuto anche artisti palestinesi ah sì certo bravi qualche tempo fa stiamo parlando di 30 anni fa era Israele ad essere avanzato in questa ma un israeliano e ci sono sì ti chiede un rate certo che ti chiede un europeo certo o un americano un americano certo o un tedesco quello che sia perché sostanzialmente lui vive in un contesto dove la vita ha un costo certo ma uno che vive in un posto dove non dico che campi con 100 euro ma con 300 400 euro stai bene non sei ricco ma stai bene certo banalmente io sentivo per esempio che un ingegnere informatico di alto profilo a Londra può arrivare a guadagnare 6.000 5.000 sterline in India con 5.000 1.000 1.500 ci sta la grande certo assolutamente sì e se quello è bravo chiamano quello certo e invece di chiamarne uno a Londra ne chiamano tre perché poi fanno quel giochino quella triangolazione società e quindi non sono come dire regine di mercato ma funziona così quindi è complicato insomma quindi diciamo io ho detto vabbè la strada è quella dell'outsourcing quindi faccio lo studio a Trani va bene allora io direi che siamo quasi in chiusura quindi ti faccio la mia seconda rubrica e ultima rubrica dopodiché partiamo con i saluti vediamo un po' cominci a preoccupare no il nostro comune amico Daniele Spizzico avrebbe dovuto procurarmi un gettone qualche tempo fa però nel frattempo è partito per le Maldive lui quindi ho dovuto cercare questo gettone degli anni 80 della cabina del telefono facciamolo vedere bene bellissimo e in sostanza cioè me l'ha fornito un'amica Caterina che ringrazio per questo in attesa che arrivi quello di Daniele però capiamo che cos'è questo che è un gettone magico e ti permette di fare una telefonata a una persona vivente o vissuta o immaginaria alla quale puoi chiedere qualunque cosa o dirgli qualunque cosa chi chiami e cosa gli dici chiamo chiamo mio padre che c'è che è vivente e gli dico ti voglio bene che noi diciamo non ci parliamo in maniera affettuosa da tanti anni quindi gli vorrei dire questo ti voglio bene comunque a prescindere come la pensi io ti voglio bene io lo so che lui mi vuole un mondo di bene però magari diciamo che è difficile capire certe cose insomma quindi gli dire questa cosa insomma sono molto felice mi è piaciuta molto questa intervista senti Anna allora io ti ringrazio di essere stato con me e di aver condiviso un po' del tuo mestiere della tua vita grazie spero di non avervi annoiato sicuramente avrai annoiato tantissimo tanto parla e ringrazio il santo Graal per averci ospitato anche per questa puntata grazie devo ritornare a mangiare perché poi sono un po' a dieta anche se non si vede insomma sono a dieta anch'io non mi fa parlare però vabbè è grave che non ci venga più insomma io volevo volevo ringraziare anche il maestro Bini per la sigla che ci offre per ogni puntata e la volevo lanciare con te però facendo un riferimento a una cosa che non so se posso dire però con un soffione in mano ok io vorrei ringraziare ancora Anna e lanciare la sigla sigla ma come hanno fatto tutti quei personaggi famosi ad arrivare dove sono arrivati ma come hanno fatto tutti quei personaggi famosi ad arrivare ad arrivare per arrivare per arrivare per arrivare al traguardo della celebrità e quanto ci hanno messo per arrivare quanti sforzi quanti sforzi mi hanno fatto mi hanno fatto ridere il mio collega sto rientrando ho preso un bel gundam da montare un bel gundam un bel gundam un bel gundam un bel gundam Grazie.